Stiamo perfezionando diversi acquisti, per adesso sono arrivati gli over Ettore Marchi, che è stato il colpo da 90, poi è arrivato dal Monza, è arrivato Pezzi, ex capitano del Carpi, è arrivato Gelonese dalla San Benedettese, è arrivato poi un under Cannavò attaccante da Lempoli e stiamo perfezionando i trasferimenti di nuovo di Farabegoli, Benedetti Tessiore dalla Samp. Questo intanto per i primi arrivi, è rimasta l'ossatura della squadra formata a gennaio, ci sono rimasti Pugioni, Leli, Gennari, Nava, gli attaccanti De Feo e Marchegiani, abbiamo solo la questione di Volta che probabilmente sarà ceduto. Direi che stanno inserendo bene, hanno portato anche un certo entusiasmo, un certo carisma, del resto non scopro certo io il valore di Ettore Marchi, di Pezzi e di Gelonese, non abbiamo ancora completato la rosa, mancano ancora tre under per chiudere il cerchio e poi se parte Volta potrebbe arrivare un over negli ultimi giorni di mercato, saremo attenti e pronti alle occasioni. Il Cato si chiude il 5 ottobre quindi ancora manca tantissimo, a D-Tour ufficialmente si è aperto il primo, stiamo aspettando anche la composizione dei gironi, sperando che ci sia una distribuzione più equa delle forze rispetto all'ultima stagione. State vicini alla squadra e al Presidente perché sta cercando di alzare la sticella e di fare una vis importante.